spettacolando tv siamo qui con giuseppe argirò che è il regista non che l'idiatore di questo pirandello rimaneggiato diciamo dai sì centomila uno nessuno si centomila uno nessuno la curiosa storia appunto di luigi pirandello è un modo di affrontare la vita appunto di pirandello attraverso la sua biografia inserendo ovviamente le opere o comunque parte delle opere più importanti di pirandello quante ne vediamo in scena di opere molte molte dall'esclusa al fumati a pascala all'uno nessuno centomila questa volta nella sua visione la sua versione reale trovarmi trovarsi trovarsi no diciamo che la parte femminile ci sono degli accenni anche a trovarsi così come ad altri ad altri testi che mettono in scena anche le grandi eroine femminile di avvestire gli nudi a questa sera si recita soggetto il rapporto a mommina a il sene gigante della montagna per l'appunto però è ovvio che la scelta ovviamente di giuseppe pambieri e quindi di un attore che poi dà vita anche la figura di pirandello privilegiava un rapporto col maschile che però viene affermato e negato contemporaneamente perché perché chiaramente per pirandello è determinante la dimensione della maternità quindi del femminile c'è continuamente un oscillazione dialettica rispetto al doppio no da una parte il senso paterno che viene affermato e negato attraverso la figura del padre stefano ma anche da lui stesso nel momento in cui diventa padre e manda idealmente in guerra i suoi stessi figli e poi invece il rapporto con il materno e quindi con la figura femminile laddove lui stesso diventa sempre creatore e fattore veramente delle sue creature è un demiurgo eccellente per chi non conosce pirandello e questa è un'apertura totale al mondo pirandelliano partendo proprio dall'infanzia il rapporto quindi con la governante di casa pirandello con la madre per l'appunto e poi con il precettore e poi via via appunto con la moglie che ha segnato veramente la sua esistenza senza tralasciare le la parte più leggera più lieve di pirandello per cui i primi innamoramenti di pirandello a 14 anni o e poi successivamente in età universitaria posso dire anche c'è anche del gossip su pirandello cosa che magari nessuno mai supposto ci sono c'è proprio il rapporto col femminile quelli con le donne con le amanti quindi un primo rapporto di pirandello che viene raffigurato come un amante passionale soprattutto nel rapporto con la fidanzata jenny schutzländer che lui conoscerà in germania perché dovrà andare in germania perché questo è risaputo litigherà con un professore qui all'università e verrà cacciato dall'università italiana oppure la parte divertente col suo precettore che diceva esattamente alla madre che non c'era speranza per cui appunto diceva il caruso non ha possibilità non è portato per lo studio e nemmeno per la scrittura esattamente un po come in casa leopardi no laddove avevamo dei precettori livorosi lividi che non affermavano non riuscivano a vedere la grandezza del talento sono sempre più incuriosita sì moltissimo senti ma una domanda ma perché pirandello ancora oggi può incuriosire un regista e soprattutto uno spettatore sì questa è una domanda che mi hanno posto e alla quale rispondo veramente con un piacere infinito perché pirandello affronta più di qualsiasi altro e in modo più moderno di altri la comunicazione cioè il tema della comunicazione della comunicabilità e dell'incomunicabilità noi che cosa vogliamo qual è il nostro primo desiderio quello di farci conoscere e farci amare attraverso le parole attraverso la nostra modalità di comunicazione non che sia essa verbale o non verbale e purtroppo invece andiamo incontro a che cosa all'equivoco appunto di ciò che noi siamo realmente è quello che appare agli altri di noi quindi questo relativismo è determinante perché purtroppo non crea una perfetta identità non nel rapporto con l'interlocutore e questo crea molto spesso frustrazione anche il rapporto al nostro desiderio profondo appassionato di essere amati ecco pirandello racconta esattamente questo assolutamente senti e invece giuseppe pambieri che ho detto che un attore completo ecco cosa che ti incuriosisce di più e c'è un piccolo difetto di giuseppe pambieri un difetto più che altro che magari è uno staccanovista una persona che si mette a volte al posto del regista magari no no la cosa meravigliosa di giuseppe questa è la terza esperienza che facciamo abbiamo iniziato con uno spettacolo molto complesso che erano le fenici di auripide dove lui faceva la parte di edipo e poi abbiamo proseguito con l'infinito giacomo appunto quest'altra vita di teatro di leopardi e adesso abbiamo l'esperienza di pirandello due testi che ho scritto anche pensando all'interpretazione di giuseppe questo forse oscillando un po tra come io lo immaginavo anche il rapporto alla mia meridionalità e poi invece rispetto all'interpretazione appunto di giuseppe pambieri la cosa straordinaria di giuseppe pambieri ma parliamo di pochissimi attori oggi in italia che sono in grado di fare ma pochi intendo dire due o tre e la capacità di essere straordinariamente moderno e la capacità di condividere le idee appunto con chi poi mette in scena uno spettacolo per cui non c'è mai la sensazione di prevaricare ma c'è sempre la sensazione di condividere insieme un progetto ma del resto il teatro come si può fare se non ci si innamora reciprocamente di ciò che stiamo assolutamente facendo e devo dire la verità oggi mi sarebbe impossibile anche per il mio modo di intendere la regia una cosa è pensare di lavorare con dei grandi attori e far sì che loro si esprimano liberamente questo è fondamentale ma non puoi non pensare di condividere invece un progetto io trovo invece che sia determinante ecco giuseppe è da questo punto di vista lontano dalla tendenza oggi oggi diciamo del teatro oggi il teatro in teatro assistiamo una riconvocazione del genere da parte dell'attore mi spiego l'attore vorrebbe idealmente eliminare il regista non un po esattamente come si fa nella trilogia metateatrale per andello cioè da appunto i sei personaggi in cerca d'autore del 21 ciascuno a suo modo e poi ovviamente questa sera si recita soggetto perché perché riconvoco a sé tutte le funzioni del teatro ovvero sia la drammaturgia la regia tutto infatti assistiamo anche l'attore ha paura anche del regista per per una certa manipolazione ma si ma poi che c'è il narcisismo dell'attore il narcisismo dell'attore sempre presente e quindi non c'è solo la manipolazione ma anche questa volontà di essere di esistere di compiacersi in qualche modo allora è questo è un male rispetto al quale poi bisogna veramente essere attenti a cercare di prevenire no questo questo che può diventare un problema scenicamente ecco questo con giuseppe pambieri è un problema nel quale non si incorre perché non c'è mai compiacimento non posso dirti non c'è due senza tre perché la terza volta è che fai diciamo coppia a livello artistico mi auguro che ci sia un quarto momento adesso un pro presto per dirlo però noi abbiamo già in mente un progetto rispetto alle vite di teatro e il prossimo testo probabilmente sarà messi e goldoni ovvero sia l'idea di raccontare goldoni non solo attraverso la sua grande biografia romanzata che sono in memoria ma attraverso un percorso ideale che mette insieme goldoni come personaggio perché era un grande personaggio appunto di teatro in quanto non solo il più grande riformatore di teatro che noi conosciamo ma anche il primo vero drammaturgo italiano il rapporto anche alla sua biografia che è veramente una biografia molto piccante perché poi è stata costellata da idealità personaggi femminili e relazioni estremamente particolari quindi questo potrebbe essere idealmente un appuntamento che vandrebbe poi a costituire una trilogia ideale di queste vite di teatro che io penso poi anche di pubblicare che sono appunto leopardi pirandello e poi il prossimo probabilmente sarà goldone sono le più importanti più rappresentative che sono poi estremamente veramente rappresentative diciamo leopardi in quanto poeta che ha avuto questa apertura al teatro attraverso soprattutto le operette morali anche se non erano destinate al teatro ma la scansione dialogica delle operette ci fa pensare sicuramente a un rapporto drammaturgico importante e poi pirandello perché ovviamente il secondo drammaturgo dopo goldoni e poi ovviamente sappiamo edoardo sono i tre drammaturghi più rappresentativi della nostra letteratura teatrale anche perché la nostra letteratura teatrale ancora alla ricerca di una lingua e guarda caso i tre campioni della scrittura sono tre uomini che parlano la loro lingua cioè goldoni il veneto per l'appunto pirandello il siciliano idealmente e realmente perché anche scritto in siciliano e eduardo il napoletano tra l'altro congedandosi dalla vita con la riscrittura della tempesta nel napoletano del seicento dove idealmente prospero incontra cotrone dei giganti della montagna col quale noi chiudiamo esattamente questo spettacolo mi hai fatto una storia del teatro vai troppo fa veramente è una cosa grandiosa però voglio dare appuntamento a chi ci sta vedendo qui intanto al teatro dell'angelo con il tuo spettacolo che è centomila uno nessuno e vorrei dire una cosa la curiosa storia di luigi pirandello una cosa che non ho detto alla prima che ci tengo molto a dire è uno spettacolo che io dedico a una persona una donna una donna di teatro che ho amato molto e con la quale io ho lavorato anche per anni all'università e che è la professoressa franca angelini che non c'è più essendo lei forse la più grande studiosa di pirandello una delle più grandi che ci sono state in europa questo spettacolo idealmente veramente nato anche e soprattutto per lei e lo dedico a lei perché veramente c'è un'affinità proprio di amorosi sensi nei confronti di questa donna che ci ha lasciato e che avrei voluto frequentare ancora di più soprattutto negli ultimi tempi non ho avuto modo di frequentare ricordiamo l'appuntamento il 15 16 17 qui si al teatro dell'angelo al teatro dell'angelo per vedere per ascoltare un pirandello senza polvere giuseppe pambiani in scena poi giuseppe pambiani in scena ha fatto tutto lui giuseppe pambiani in scena si è un accompagnamento no beh ci sono delle proiezioni molto interessanti c'è pensavo che l'alter ego in questo caso i suoi dialoghi con le donne fossero impartiti da una figura femminile no non ci sono non ci sono rapporti con non ci sono dialoghi con le donne lui abilmente racconta esattamente tutto è un racconto scenico è un racconto scenico a polifonico che parte da un'unica voce però assolutamente poliedrica multiforme camaleontica come quella di giuseppe spettacolando tv spettacolando tv giuseppe argirò e paola aspri una cosa spettacolare su questo spettacolo no sullo spettacolo no sullo spettacolo lo spettacolo è oggettivamente curioso ripeto perché mette in scena degli inediti da un certo punto di vista un solo aggettivo per dire per raccontare questo spettacolo misterioso ecco e con questo ci lasciavo ciao 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 giuseppe ciao